ciao lori come stai? ciao max tutto bene bene tutto? tutto bene grazie oh ma ti ricordi la filata di sabato in oratorio per il carnevale? sì sì veramente bella mi ricordo anche quanti adulti ci hanno aiutato per i vestiti guarda è una cosa fantastica erano bellissimi comunque i vestiti e meno male che c'erano gli adulti ad aiutarti e sennò eravamo un casinino al crollo veramente meno male ed è stata anche una bella giornata perché non ha piovuto alla fine esatto e poi vedi raga dopo che abbiamo mangiato e hai bevuto la cioccolata calda e le bugie fantastico sì sì veramente bello hai ragione oh ma tu te la ricordi bene la filata io ho qualche vuoto di memoria sì sì me la ricordo bene guarda un po' queste immagini musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.